Esatto. Allora, io credo, senza che qualcuno me lo dica, che forse possiamo cominciare ad avviarci alle conclusioni, insomma, perché la giornata, la mattinata è stata ricca. Gaburro, io comincerei proprio da lei. Allora, che facciamo? Perché poi questo è il vostro, sarà un modello appunto per l'Impergi, quindi cominciamo a vedere come vi muovete e poi noi ne approfittiamo. Allora, sicuramente nei prossimi giorni sarà nostra cura inviare quella relazione dettagliata che abbiamo, sulla quale abbiamo lavorato a sei mani a tutte le rappresentanze politiche e a tutte le istituzioni competenti, ministeri competenti, in primis il Ministero del Lavoro. Io ricordo che c'è una direzione generale della Previdenza che sta lì apposta e non cambia quando cambiano i governi. I dirigenti sono sempre quelli e noi a quelle persone gliel'abbiamo fatto presente più e più volte il problema in Asarco. Ed è stato un muro di gomma. Quindi noi martelleremo quella divisione e direi che ci possiamo prendere un impegno comune già dinanzi a questa platea. Per quanto riguarda i silenti e per quanto riguarda federagenti, io poi spero che anche le altre associazioni aderiscano con entusiasmo alla proposta che sto per fare. La nostra intenzione sui silenti è quella di promuovere un'azione collettiva a livello nazionale. Perché non ci dobbiamo scordare che non ci sono solo i silenti già in quanto tali, cioè queste 500.000 persone che hanno perso ogni possibilità ad oggi di avere indietro quanto versato. Ma potenzialmente tutti i 250.000 agenti di commercio sono silenti, siamo silenti, perché se domani mattina perdiamo il posto di lavoro noi automaticamente abbiamo perso tutti i nostri contributi previdenziali a meno di fare la contribuzione volontaria che poi nella stragrande maggioranza dei casi neanche conviene. Quindi ci dobbiamo ricordare questo. Da parte dei federagenti faremo sicuramente un'azione collettiva, la promuoveremo tramite i nostri iscritti e andremo a vedere che cosa succederà. Bene, grazie.